Sarà il palasport Papa Giovanni Paolo II di Pescara la struttura messa a disposizione dal sindaco di Pescara Carlo Masci al presidente del Tribunale della città adriatica in vista della prossima udienza preliminare per quanto riguarda il disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola in cui persero la vita 29 persone. La decisione del sindaco fa seguito alla richiesta inviata dall'avvocato Romolo Rebo al fine di evitare un nuovo rinvio dell'udienza dopo lo slittamento di quella del 27 marzo causa emergenza covid-19 dato che l'aula fino a questo momento utilizzata per le udienze del procedimento la numero uno del palazzo di giustizia non ha gli spazi sufficientemente ampi per garantire il distanziamento di tutte le parti che hanno diritto a partecipare al processo ecco qui che la location individuata capienza tra gradinate e parchè dovrebbe arrivare intorno alle 3.000 unità appare la più idonea ad accogliere le oltre 250 persone che dovrebbero partecipare ad ogni udienza potendo di fatto rispettare le attuali norme previste per il distanziamento sociale la palla passa ora al presidente del tribunale angelo bozza ma i problemi non finiscono qui perché c'è ancora un altro nodo da sciogliere quella della data visto che resta ancora aperta l'ipotesi di un nuovo rinvio difficilmente l'udienza si potrà svolgere il 10 luglio alla luce del fatto che i termini dell'emergenza per il comparto della giustizia sono stati prorogati al 31 luglio e dunque tutti i procedimenti previsti fino a quella data a meno che non presentino carattere d'urgenza sono destinati a slittare a meno che non arrivino indicazioni diverse e precise proprio dal ministro della giustizia alfonso bonafede che già nei giorni scorsi era intervenuto sulla questione location sollecitato dall'avvocato reboa visto che a distanza di tre anni dalla valanga si è ancora davanti al giudice per le indagini preliminari gialluca sarà andrea in attesa quantomeno del sì o no sulla riunificazione del processo madre con quello del depistaggio dunque ad oggi l'unica cosa certa sembra essere la sospensione dei termini di prescrizione dei reati che quantomeno mette al riparo i familiari delle vittime da un eventuale il massimo rinvio